Ciao, sono Giovanna Mazzon, VocalEssence Coach e fondatrice del metodo VocalEssence. Se non sai cosa è VocalEssence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti spiego come puoi cantare con più controllo, quali sono gli step fondamentali per prepararsi a cantare con un controllo e con una consapevolezza più profonda. Primo step, cerca di sciogliere il tuo corpo e di renderlo attivo. Questo è un passaggio fondamentale che facciamo tutti noi cantanti, professionisti, ma anche attori per esempio. Il corpo va attivato, non si può partire a fare un allenamento, a cantare un concerto o anche una semplice canzone, anche solo allenarsi a cantare direttamente dalla canzone stessa senza attivare il corpo, senza rendersi conto che siamo qui, presenti ora e che nel nostro corpo circola sangue, circola elettricità, circola energia e che dobbiamo assolutamente metterci in contatto. Quindi attiva il tuo corpo, fai del movimento, dello scioglimento, fai dell'attivazione, anche leggera, non serve fare cose molto pesanti. Qualche minuto di stretching per esempio, fondamentale per sentire i muscoli del tuo corpo attivi, in modo che quando tu li chiami loro rispondono subito. Secondo step, respira. Quindi scalda la tua respirazione, costo diaframmatica. Non dare per scontato, per quanto tu sia esperto nel canto, che la respirazione funzioni così. Anche per me che da molti anni che studio e mi preparo, comunque ho bisogno di avere quei due minuti almeno, poi dipende dal tempo che una persona ha prima di prepararsi a cantare, ma quei 5-10 minuti di preparazione, di rilassamento, centratura, abbassamento più profondo del diaframma, attivazione della respirazione in modo coordinato e lento, in modo che poi quando lo cerchi velocemente è già pronto il movimento. Va fatto un riscaldamento ragazzi, quindi mi raccomando, secondo step attiva la tua respirazione. Terzo step, preparati degli esercizi di warm up, che sono degli esercizi preparatori agli esercizi specifici. Attenzione, il warm up come va fatto? Con leggerezza, con precisione, con intervalli di note piccole. Va benissimo un semitono, massimo un tono, in modo che la voce e le corde vocali si scaldino gradualmente, senza avere un trauma molto forte, soprattutto se siamo in inverno o in autunno, quando c'è più freddo rispetto magari all'estate che si ha già una temperatura più calda. La muscolatura va scaldata e anche le nostre corde vocali vanno scaldate gradualmente, con questi warm up, che sono esercizi che spesso hanno delle occlusioni, come può essere il muto, questa M, queste occlusioni anche dalla bocca, dalla lingua, che ci permettono, come dire, di non andare subito a fare un suono a freddo molto ampio. Esercizi specifici. In questo caso devi capire che cosa vai a cantare poi, oppure se ti stai semplicemente allenando. Quindi se ti stai semplicemente allenando capisci qual è il tuo debole e quindi scegli dove allenarti, magari con una pianificazione, come abbiamo già detto in altri video. Mentre per quanto riguarda la performance, lì devi capire più cose. Per esempio, dove stai cantando da un punto di vista di range, vocale? Copri tutta l'estensione? Quanto tempo devi performare? Anche questo è importante. Per quanto tempo poi devi performare? Perché questo determina la durata anche del tuo riscaldamento e del tuo esercizio specifico. Per esempio, devi fare dell'agilità, devi fare della potenza, devi fare invece molto di falsetto soffiato, devi essere molto flessibile. Studia gli esercizi vocali in base a quello che ti serve nella performance, in modo da essere pronto e non avere nessun tipo di incertezza nel momento in cui devi cantare la tua prima canzone al concerto. Oppure anche il tuo video, per esempio. Se devi fare un video su YouTube, è importante che tu sia pronto quando registri, in modo da non innervosirti. Se non vengono continuamente le cose, a un certo punto ci si innervosisce e a volte non si riesce neanche a finire il video. Quindi mi raccomando, preparati bene prima di andare a performare. Ultimo punto, canta. Canta sempre, ovviamente dopo aver fatto gli step che abbiamo già nominato, e cerca di fare esperienza. Quando si canta non si pensa alla tecnica, si interpreta, si canta e si va verso la direzione emotiva. Si cerca di capire anche che cosa si è imparato, che cosa c'è ancora da fare, e si fa esperienza. Fai esperienza di video, fai esperienza di live, cerca di fare più esperienze possibile, in modo da mettere in pratica quello che studi e dai un senso anche alla tua arte. Non ti preoccupare se non ti senti pronto. Tutti abbiamo sempre da imparare, quindi cerchiamo di andare sempre verso una uscita dalla nostra zona di comfort e di fare esperienza. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like, un commento. Se ti va, proponimi altri temi da affrontare insieme, così vediamo se riusciamo ad arrivare alle vostre menti e ai vostri cuori, per far scattare qualcosa ed arrivare a un livello superiore della vostra voce. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti ora al mio canale YouTube, mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei nostri corsi, e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.